Vorrei lasciare la parola a Pasquale che dimostrerà il funzionamento vero e proprio dell'apparato. Dimostrerà da una parte il funzionamento della gestione attuale, la 3.3, e la preview, che noi come parte abbiamo già avuto l'accesso, la preview che è la 3.4, che dimostrerà alcune funzioni interessanti, legate non solo al monitoraggio posteriore, ma addirittura al blocco preventivo di alcuni errori che andrete a vedere. L'ambiente demo che vi proponiamo è molto semplice. Basato tutto su macchie virtuali su director box, abbiamo una macchina client che effetturà le connessioni terminal, con le connessioni console e VLC, ai server remoti. Abbiamo un server basato Linux basato su Debian e un server basato server, un client Windows 7. L'appliance è di tipo virtuale in questo caso, perché come vedremo successivamente, l'SCP è disponibile sia nella versione hardware che nella versione completamente virtuale, utilizzabile su Debianware o su un altro sistema di virtualizzazione. Adesso lascio la parola a Pasquale. Grazie, mi sono Pasquale Giuri, mi occupo di preventità, di ruote soluzioni, di ambiente data center, di sicurezza, monitoraggio e virtualizzazione. Vorrei mostrarvi in questa demo come una scelta pro box può aiutarvi a prendere il vostro server da sempre più sicuro. Questa demo qui è composta da questa architettura, che molto semplicemente ha un segmento di rete esterno, da dove provengono qui gli amministratori, e un segmento di rete interno dove sono attestati i vari server. E questo in alto è il client, è un server Linux, e quindi è capace di aprire connessioni, ssh, x11, 10, 12, chief o tgdp, verso i vari server. E questo è l'ambiente di virtualbox che ospita tutte le virtual machine. Allora, quello che faremo è utilizzare il client, queste sono le diverse macchine, questo è il server Windows, qui abbiamo il client Linux e questo è il server Linux. Lo che faccio è vado sul client Linux e entro come amministratore sul server, sulla rete 2 e la rete di back-end, entro e posso utilizzare il protocollo TEL o il protocollo SSH. La stessa app, questa è una roba, come si intende, ecco qui. Posso lanciare un comando interattivo, posso lasciare anche il video ampio, così mi potrebbero vedere come vediamo i risultati dopo. Alla stessa maniera che qui, è uscito. Oppure posso lanciare i comandoli grafici, quindi ho un client, qui, per le connessioni al testo premuto Windows, qui, sono ora sul server Windows, posso aprire il documento e fare le preparazioni. le connessioni. Queste sono le tipiche sessioni dell'amministratore di rinuoto. Prendete la strada di sistema. Oppure la sessione 2.0.5. Qui sono sul server e vedo la stessa immagine che sto vedendo l'altra parte. Esco. Andiamo a guardare finalmente la C-Ctrl Box del primo. Questa è la versione 3.3 che è quella più stabile. Vedremo anche la C-Ctrl Box del primo. Vado sul pannello Search che mi permette di ricercare tutti gli mesi logati e registrati. Qui ho a disposizione una scala che può essere giorni, settimane o mese. Siamo a 21, possiamo andare a spiegare un po' meglio. E qui abbiamo le sezioni che abbiamo appena effettuato con tutte le informazioni dell'articolo. Quindi il protocollo, dal inizio, dal fine, durata, utente. Qui ho richiesto l'utilizzo di una chiave perché la sessione è stata cifrata mediante e quindi può essere cifrata soltanto con l'installazione di luce pubblica su una macchina. e questa è la sezione. Qui c'è un bollino che vi indica che la registrazione è firmata digitalmente quindi la C-Ctrl Box in questo caso è configurata come in Firewall Mode. Quindi intercetta qualsiasi connessione da parte degli amministratori, la dirige in locale, trasparentemente, e registra tutta la sessione auto e la sessione video e può riproporla successivamente per qualsiasi controllo. Questa è sul pantonalista delle connessioni, però io posso fare delle ricerche. cerco la stringa private perché ho evitato il movimento che si chiamava private. e qui dentro ho trovato il video dove ho evitato questo video. poi posso cercare qui adiciatura, all'interno della sessione, la stringa, e mi viene selezionato in bianco il punto esatto dove è stata riscontrata l'occorrenza della stringa, quindi in particolare questo punto esatto. Questo si può fare veramente su qualsiasi sessione. se cerco la stringa. Ho trovato una sessione a sessi app? Sì. Eccola qui. Dove probabilmente ho un agente con un altro piccolo. Dove probabilmente ho un agente con un altro piccolo. Ok. Guardiamo in un medio, allora nell'interfaccia, come si configura questo apparato. Abbiamo qui nelle impostazioni basiche la possibilità di definire qual è la modalità operativa. Quindi quelle che accennava Michelangelo, la passion, la router o la bridge. Nella passion, come vedete, perdo la possibilità di definire l'interfaccia interna perché non serve più. C'è solo un sistema arrestato su una interfaccia operativa e può avere altre interfacce individuelle. Invece nella router mi attiva appunto questa interna. Nella bridge lo stesso, non ha modo di esistere l'interfaccia interna. E quello che avviene nella router e la bridge a livello interno è che viene abilitato all'equipro-working. E quindi la parola si comporta da router. Però mantiene qualsiasi caratteristica della bastion. Ovvero io posso definire qualsiasi bastion. Quindi per passo si intende qui dentro un proxy applicativo che permette di terminare le connessioni dal client verso l'atappalato e poi aprirle in una nuova sessione verso il server. Quindi lascio configurata la router. E qui trovo una serie di altre configurazioni. Tra cui quelle magari più interessanti sono l'alert e la possibilità di gestire una serie di alert per tantissimi eventi. attraverso notifiche e-mail o tra queste LMP. Abbiamo la parte delle policy. Questo strumento diciamo è molto semplice da configurare per... Connessioni semplici. Però è possibile poi... E' molto flessibile perché permette anche di fare configurazioni più complesse e gestire delle particolari modificazioni, ad esempio, che vedremo tra poco. E' possibile metterlo in alta disponibilità in maniera molto semplice. Quindi si possono mettere due operati che sono in alta disponibilità l'uno per l'altro. Non è passivo l'altro attivo. e si correntano continuamente, diciamo, le sessioni e le registrazioni. Qui si definisce i servizi. Questo è uno dei servizi che abbiamo utilizzato un po' fa, le SSH. C'ha tutta questa serie di impostazioni. e si può definire come viene fatta l'autenticazione. Cosa fare della registrazione? Se cifrarla, se firmarla, se apporre un timestamp, oppure tutte e tre le azioni insieme. Cosa fare, come archiviare e come pulire, diciamo, le registrazioni? Probabilmente dopo sei mesi, dopo sei mesi, potrei cancellarle oppure archiviarle, oppure fare un backup comunque su un team. Mi assegno a questo partner un'utenza partner e l'amministratore arriva sul server e diventa root. Quindi, in questo caso, cosa ho fatto? Ho evitato di cedere le credenziali di root al partner esterno. e ho obbligato i partner a passare attraverso la share control box, perché altrimenti, anche se avesse accesso fisico alla console, non potrebbe accedervi, perché non conosce proprio le credenziali. E ho implementato una centralizzazione dell'autenticazione. Questo potrei farlo con un repository aziendale, come può essere l'edapp, il directory. Questa demo l'ho fatto con il repository interno della share control box. Questo l'ho fatto per il protocollo SSH, però analogamente potrei farlo per WMC o per RDP e qualsiasi altro protocollo gestito dalla share control box. Vediamo quanto sono qui. Questo è un altro passio. Ecco qui. Sul server non c'è nessun banner, quindi io faccio in modo che qualsiasi connessione SSH verso i server viena sempre con questo banner, che può essere personalizzato chiaramente. Sono entrato con i normali credenziali Unix sul server e quello che faccio ora è... provo a fare una formatazione di un disk, per esempio. Ho lanciato il comando UFS che è formato a un device. Che è successo? La connessione è stata chiusa dal remote host. In questo caso ho impostato delle keywords sulla share control box specificando che il comando UFS non è permesso e quindi è stato notificato l'amministratore via TREP, via mail ed è stata chiusa la sessione. Questo, diciamo, vi ricollego per aiutere questo sbadato, per esempio, perché possiamo dire che possiamo gestire che delle azioni in qualche modo lanciano quanto meno degli altri o magari chiudono la sessione. In questo caso, dentro una cartella musica, la cartella musica contiene dei file Mp3. In questo caso, la share control box non ha riconosciuto il comando, però ha riconosciuto quello che viene stampato a video. a video c'erano le stringhe TREP e alla stessa maniera, insomma, potremmo dire, la scelta box è in grado sia di modificare l'output scritto da un amministratore sia quello che è il contenuto a video. e poi c'è l'esempio del furbo. Il furbo che fa può aprirsi un tunnel via SSH. Come si fa un tunnel? Si fa un normale SSH e poi si dice, apri e lascia aperto localmente la porta 3000 ma ridireziona la verso il nostro server. Sulla porta 22, magari, perché vuole entrare in SSH. Ok? Ciao. Ho aperto quindi un SSH con un tunnel e ora provo ad utilizzare questo tunnel. In questo caso, diciamo, il client che aveva, del SSH che aveva aperto questo tunnel risponde e dice, non esiste questo channel. Questo perché la scelta tra box ha rilevato all'interno del servizio SSH che esistono una serie di sottoservizi che possono essere copy in file, la scelta attiva, oppure il tunnel. si chiama, la scelta attiva e il internet è parte di visualizzare il tunnel. In questo caso, il client che ha rilevato, ha rilevato quello servizio e l'ha rubato. Se utilizzo lo stesso tunnel, se facessi questo tunnel verso un canale dove è permesso il tunneling, Passo attraverso il server dove si è infiltrato. Passo attraverso il server, quindi questo per dire che lascia il protocollo in grado di gestire non solo i protocolli, però anche i sottoservizi di ciascun protocollo. Pasquale ha fatto vedere con questi ultimi passaggi qualcosa che avevamo anticipato prima. Con la nuova release di prodotto siamo passati da un controllo a posteriori, quindi a fronte di un problema vado a fare delle ricerche, vedo il video, controllo chi ha fatto cosa, ha una cosa che è un controllo proattivo. Cioè prima che l'incidente succeda io lo blocco. I tre amministratori di cui abbiamo parlato prima e che vi dicevo sono presenti un po' dappertutto, con queste modalità qua li avrei bloccati. L'utente che accidentalmente lancia una reme, una reme, un errore, trasterisco, il brasa tutto, lo blocco. Lo blocco prima che il danno venga fatto. L'utente che usa il server impropriamente per scaricare i contenuti e questi contenuti li conosciamo, potrebbero essere file lab, potrebbero essere file mp3, potrebbero essere qualunque cosa che su questo server non ci deve stare. Perché il problema di fondo è questo, su uno server diluzione di certi contenuti non ci devono stare. Appena questi vengono mostrati a schermo, che sia una sessione con la fattura dell'Union, una classica scenda, ossia una sessione dei ripiti, perché il sistema integra un riconoscimento dei caratteri anche della parte della grafica, appena apparano una serie di scritte tipo compiornati configurati, tipo .mp3.av, la sessione viene chiusa. Così l'operatore, anche se ha fatto qualche fumbata, comunque sia viene stroncato. A fronte di questa azione, che potrebbe essere butta giù la connessione, oppure cancella il file, colucazione, si può anche usare delle notifiche, guardate. Cioè, è interessantissimo questo, perché io non vado a guardare l'intera sessione dell'utente. Io voglio solo sapere se quegli amministratori stanno facendo qualche cosa di sbagliato. Quindi, l'utente che sulla macchina fa lo shutdown, lo devo bloccare. Quante volte vi capita, abbiamo alcuni amici dell'esercizio qua con voi, quante volte capita che l'operatore, anziché che fai un reboot, fa lo shutdown del server, e bisogna chiamare qualcuno al laptop center per andare a riaccendervi la macchina? Ma, almeno, se quello è un errore, io lo bloccovo il comando. Perché, tanto, la prima cosa che posso fare è che, una volta messi in produzione questi apparati, intanto posso censire le attività che vengono fatte di volta in volta, e, a fronte di un problema, vado a capire perché si è edificato quel problema. Quando mi sono creato una casistica di eventi più frequenti, tutti quelli che già conosciamo, la cancellazione involontaria di tutto il disco, di tutta una cartella, o lo spegnimento involontario della macchina, io mi faccio la bella lista, mi configuro le policy, le content policies, e, a quel punto, le blocco, e me le faccio notificare. Così, non ho risolto tutti i problemi, ma almeno una quarta parte delle buggerate più frequenti le ho bloccate sul nascere. Poi, per tutto il resto, c'è sempre la base di controllo a posteriori, a ricerca, alla misa del video, e vedremo successivamente la ricordistica. Sì, questa è l'interfaccia della nuova versione, vediamo qui la preview, questa è la versione che sarà rilasciata a breve, tra due o tre settimane, però già contiene il supporto per il prototollo a tutti i problemi, quindi è possibile intercettare per qualsiasi sessione di browser e visualizzarla secondo lo stesso strumento che è il nostro progetto. Faccio vedere qualche altra possibile configurazione, che si può implementare. In questo caso facciamo un'autenticazione, lo stesso banner di prima, mi richiesta la sessione senza che viene intercettata dalla check control box che mi propone un'ulteriore ad una notazione, cioè non solo l'autenticazione del server, ma anche quella della check control box. Questo perché la check control box, diciamo, spezza l'autenticazione in due sezioni, la prima dal client verso un apparato e la seconda dall'apparato al server. Questa, diciamo, mi offre, questa funzionalità mi offre un interessante, diciamo, forse d'aiuto per fare l'autenticazione che voglio verso il plan e verso il server, perché normalmente il server, diciamo, è limitato in meccanismi di comunicazione, ma al passo dei certificati, le piagge sinnetiche. Invece la check control box offre altri meccanismi di comunicazione, che possono essere RADIUS, che possono essere Active Directory, e l'app. Quindi io potrei, anziché andare a modificare tutti i server per realizzare una certificazione centralizzata, potrei metterci in mezzo la check control box quindi in qualsiasi plan che vuole dare la SSH e utilizza la security, per realizzare il security, il portachiavi con il numerino, oppure avere l'intorno digitale, perché tutti utilizzano il protocollo RADIUS per comunicazione. Quindi qui abbiamo avuto una doppia orientazione, facciamo, vi mostro, la ForAIS communication. Ok, sto appuntando in questo caso un altro bastion, il 2.9, che è configurato per l'autenticazione ForAIS, ovvero c'è un altro amministratore che mi fa da autorizzatore per la commissione. Quindi viene scritto qui, inizio per questo accesso è richiesto la ForAIS 2.10. inserire la password, la password è accettata, però comunque la sessione è stata bloccata, perché l'amministratore deve entrare, è richiesto l'accesso dell'amministratore che è un admin web map che entra sulla share control box, a differenza dell'admin prima, ha un menu più ridotto dell'amministratore generale che gestiva le configurazioni. In questo caso abbiamo soltanto le sezioni che ci servono a questo amministratore. Nella parte ForAIS appunto abbiamo una sessione SSH, iniziata dall'utente pasquale, quindi quest'ora, e la possibilità di accettare questa sessione, oppure bloccarla, oppure addirittura di seguirla. Cacchiamo sul follow, ok, autorizziamo, è una manutenzione programmata. Mi viene proposto l'accesso all'ordid player di nuovo e vedo questa sessione. Già è stato abilitato il login, infatti se il corno sulla finestra di prima del primo amministratore lancia dei comandi e ritorno sulla finestrella vedo in tempo reale quello che sta facendo dall'amministratore che ho organizzato. Oppure, se mi stanco, perché magari questo amministratore è un po' colbetto, potrei andare su Active Connection, vedere quali sono le posizioni attive, risiedirla, oppure il capito. e in questo caso è qui la sessione di tutti. Ok, come funziona, diciamo, ci siamo. Vi mostro qualche la parte di rettutistica. Trovamo sulla versione stabile. la 3.3, la 3.3, la parte di reporting. Ok, è molto flexibile, diciamo, il meccanismo di reporting, è molto altamente configurabile ed è possibile visualizzare i dati, produrre dei report di dettaglio, molte altre posizioni, utenti, tempi, oppure fare dei report più generici senza dei dati sensibili, quindi mettendosi sui dati aggregati. Qui ho fatto qualche esempio, ho trovato... Questi sono i report che sono molto dettagliati, si possono creare come si vuole, si può addirittura creare dei report con delle ricerche, cioè inserire delle stringhe e quindi fare dei report su delle parole chiave che mi interessino, oppure addirittura è possibile fare dei report con delle query custom, cioè posso costruire una query personalizzata e stare quello che mi pare nella database, perché è in formato aperto e automaticamente vengono costruite dei grafici, oppure delle liste, oppure delle matrici. Questa è la parte di configurazione dei report. Queste sono tutte una serie di report che sono state. Quindi per ciascun protocollo addirittura... Penso di avervi esposto, diciamo, la maggior parte, diciamo, delle responsabilità più interessanti. Aspetto a le domande e a quali situazioni... Allora, come vedete sulla parte di report, questa probabilmente è la cosa più interessante e più di meno tecnici, sui report la cosa interessante è che possono essere creati completamente custom. Oltre ai report già preconfigurati che mostrano tutto, qualunque dato o contenuto che possa essere esportato, è possibile farne più versioni. Che ne sono una versione più tecnica per i gruppi che hanno la competenza per analizzarlo, e una versione più aggregata per il responsabile, il manager, che magari non ha bisogno di vedere in un certo livello di dettaglio, e soprattutto potrebbe essere inopportuno che visualizzi un eccessivo livello di dettaglio, perché magari contiene dati non aggregati, ma dati più sensibili. Un'altra cosa interessante è che questi report possono essere prodotti automaticamente a intervalli scherivati e contestualmente inoltrati di email a delle liste di istituzione. Quindi voi ogni settimana, ogni giorno, ogni dieci ore, quando volete, fate produrre i report che avete precedentemente configurato, e vi fate i non-try, che è meno automaticamente la versione ribuita al manager, la versione di dettaglio ai tecnici. In questo modo non è necessario che più di un tot di persone accedano direttamente all'interfaccia e vada ad esportare dei dati, perché magari potrebbero fare anche delle cose sbagliate, tutto il fatto che comunque sia possibile profilare l'utenza. Quindi, in qualche modo, tra componente di ricerca, componente reportistica e tutta la parte più tecnica, il prodotto, a mio avviso, è abbastanza autoconsistente. Non la vieta di integrarlo in un'infrastruttura un po' più grossa, dove insieme mettiamo componente Syslogim G, SSD come Storebox, ed eventualmente una terza parte composta da Syslogim, cioè da un tool per la correlazione dei eventi, l'analisi e l'analisi di vulnerabilità e così via. Quindi, come vi dicevo, questo è un componente di impazzo, un pezzo di impazzo, così come gli altri prodotti di patti. Gli integrati tutti insieme contribuiscono a creare quel sistema della sicurezza aziendale, che, oltre a essere gestita con strumenti tecnologici, va comunque sia gestita con, secondo altre metodologie, che potrebbero essere la ISO 27001 o comunque altra cosa. Quindi, questo è un po' quello che tecnicamente si può fare.